Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da avionauta, questo è il nono episodio del lucente signore con l'ombra di Mordor e siamo qui davanti alle porte della prossima missione che suona come se fosse l'ultima, credo, a meno che non è un passaggio per qualche altra zona della mappa non lo so, essendo un DLC non mi aspetto chissà che, però vediamo un po' di che si tratta le forze dello scuro signore sono allo sbando con tutti i suoi comandanti, sotto il tuo controllo Sauron è venuto a sfidarti in combattimento aperto Vincere ingannatore, sono io il vero signore degli anelli Ah, proprio così E lo posso usare l'anello contro di lui? Sembra di sì Molta finita non so che cosa farò, però Bello Bello grande Grande Almeno non è stato il finale QTE Del gioco base Ah sì, mi ho tolto tutto l'energia già a Sauron Aia Quindi sconfiggi Sauron, non l'ho sconfitto Non bastava questo? Cos'è che vuole più di questo? Ah sì, è sconfitto, sta a terra Quindi, che gli facciamo? Così, proprio un colpo? Oh oh Che succede? Sì, ci avevo creduto Che hai? Mi appartiene Ok Cos'è? Lo scuro signore ci ha liberati da queste perverse bugie Oh Distruggete l'alfo Davvero così? Diventata la cosa? Lo vedo! Lo facciamo! Aia Un finale coi fiocchi A quanto pare Ok Minha un po' di sfruttare il terreno Dai, sali su Convochiamone qualcuno Se ci riesco in tempo Allora, io vorrei ammucchiarli tutti qui perché c'è un bel po' di grog Ma non sale nessuno A quanto pare Dai ragazzi Vediamo se Che è stato? Come ha fatto questo? Cioè, mi ha colpito subito dopo che Ok Mi sa che è meglio che li uso Quanto più inizio Cioè, tutti qua stanno Cioè, come Qual è la tattica per non soccombere adesso? Scusate Cioè, è andare via un attimo da questi Ovviamente Devo dominarne quanto più è possibile Convoco qualcun altro E mi devo far dare una mano Da questi amici, immagino No, e Stanno tutti qua Cioè, mi ha colpito comunque Ah, io ho l'anello Ho di nuovo carico l'anello Non ce l'ho fatto caso Ok, via Andiamo se Ok 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 Ok, uno è andato Bene Quindi la tattica è semplicemente questa Immagino Ricaricare l'anello Devo usarlo a sto punto Almeno Fin quando rimaniamo tipo Con uno solo dei comandanti Dove sta un altro comandante? Eccolo qua Facciamogli un po' di tanni Levatevi No Ok Ok Posso convocare Seguaci E magari Lo faccio Vediamo se riesco a governarne qualcun altro Che poi più ne governa E più L'anello L'anello si ricade Ah Ah Qui c'è altro Grog Ok Fa male Il Grog E non lo bere Ok Combo Combo coseguaci Madonna Che casino L'anello è tipo a 40% Mi sa se c'è altro Grog Da qualche parte Si Sta qui Dai ragazzi Tutti qua Venite in tanti Eh son tanti comunque Aia Vediamo se Ok Ok L'anello è quasi carico di nuovo Un altro è stato ucciso Bene Diamogli un colpo No Oh mi ammazzano No No Com'è successo? Che mi ha dato una chance così? Allora a sto punto Ricarichiamoci Menomale Eh Ma fregato Dai ci siamo quasi A ricaricar l'anello Che casino Dai che ormai Quanti capitani sono rimasti? Due Beh sarebbero pure quasi Affrontabili Ok Ok Si Ho ricaricato Dove sta? Dove sta? Dove sta? Ah uno è quasi anche morto Potrebbe essere Devo dire davanti Quindi va bene Inneboliamo questo Dai 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 Forza E dai Morto Dove è l'altro? E' lui? Sembra di sì Ok L'ho ammazzato Eccolo qua Di nuovo il nostro amico Sauron Quindi? Che facciamo? No Che fa? Mi resuscita? Sconfiggi Sauron Marchia tre arcieri Così Tanto per Per gradire Quindi saliamo su Ahia Dove stanno gli arcieri? Eccolo là Uno Magari lo potevo fare pure prima In verità Mi avrebbe dato una mano dall'altra Non ci ho pensato In quel caos Erano un po' troppi i nemici E poi uno di loro Mi ha fatto bei danni Prima Dov'è il terzo? Eccolo là Ok Presi No 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 Volevo questo Ma Guarda un po' Raccogli i proie Ce l'ho già carica Ecco perché Vabbè Sono un deficiente Vediamo se gli posso sparare Adesso No No Invulnerabile Che gli faccio Ah Forse questo Però Aghia No Non lo fate alzare Rompiscatole Che sei Saura Ok In quel momento Ero invulnerabile A quanto pare Meno male Ok 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 Combo così Quaci Tutti addosso a Sauron Dov'è il comandante? E viettola a pigliare Dei possi Stavo scherzando Ci sono Sauron Ecco ci qua Ha 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 Forza Woo Epico Che stai facendo Di nuovo Aia A quante volte te li devo ammazzare Questi Mannaggia Aia No E' andata Wow No Cavoli però Non mi ha dato manco il tempo di muvermi così Ah no Me l'ha dato Me l'ha dato Me l'ha dato Aia Ok Quindi fortunatamente non ci fa riprendere proprio dall'inizio Perché se no sarebbe stata un po' dura Però quasi Quindi siamo alla parte dei tre arcieri Ha colpito il suo stesso uomo Grande sauro Oh E sali Andiamo a prendere gli arcieri Guarda che mi danno una mano Dov'è che stanno Oh Fermo Ok Dov'è il terzo? Sempre lì su Ok Quanti ne devo marchiare ancora per Dov'è che stanno? Altri da marchiare Eccolo là Grazie Ok 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 Mi hai scocciato Ok 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 Si ammazziamo pure uno dei capitani Vediamo un po' Eh scocciato questa storia eh Ma ne convoco un altro E basta Dammi il tempo di fare qualcosa eh Guarda il tempo di fare nulla Eh Tornato eh E' un po' dove dobbiamo andare va Scappiamo un po' dal centro magari Ce li attiriamo un po' da parte E vi diamo l'assembramento No restano lì Quello è il problema Quello è il problema E' un macello E' dura E non ci sono nemmeno uomini da governare diciamo così Però posso convocare i miei amici Quello si Allora convocchiamoli Ecco quello è Ehm Ce n'è uno eh Ok Ok Ne ho governato uno Termi Fate il bravi Ma venite qua Cioè Non vi muovete vicino Sauron Basta Posso convocare altri due Ok Sauron stavolta si tiene un po' più a distanza Perché prima poi Cioè Non mi dava manco il tempo di respirare Ok E' arrivato un amico suo Convoco seguaci Perché no Dai Va male Poi ci sono questi che mi sparano in continuazione Da tutte le parti Non male che Ah ma Sauron è qua a terra così Siamo uniti per sempre Io andavo in giro come un cretino Ok Quindi Quindi prima non sono riuscito ad ucciderlo Ma per un pelo E io stavo lì che continuavo ad uccidere questi cinque Annaggia Ok Ok Mambo Sei maledetto, Celebrimbor, bandito dalle terre immortali e incatenato a Mordor fino alla distruzione dell'unico. Gronn Shirkusaga, Zantia Anakizak, Gunn Anakizak. Quindi siamo riusciti a finire anche quest'altro DLC. Come sempre ragazzi vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, i commenti, mi piace, anche qualche non mi piace qui e lì. E i suggerimenti e le critiche per sempre migliorarci e non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alle prossime serie.